Musica Bella a tutti ragazzi, quella è CPM TV che vi parla, io sono Jeff e oggi siamo su Minecraft Precisamente sul server Lifeboat o LBSG come più comunemente conosciuto Bene passiamo subito al gioco E vabbè vedo che le serie di Minecraft vi piacciono un sacco quindi ho deciso di portarla anch'io Anche se avrei preferito non portarla e aspettare che mi arrivasse il computer nuovo Così la qualità del video sarebbe stata migliore anche il gioco E vabbè iniziamo subito a giocare Con la nuova versione di Minecraft ho trovato veramente pochissimi server per giocare Quindi è stata un'impresa trovare questo Tutto quanto per il canale, che cacchio fai tu davanti a me? Partiamo subito a giocare se mi fanno giocare Non vedo niente, ah ecco devo andare lì Survival Games, benissimo 5, 4, 3, 2, 1, si parte Vediamo un po', cerchiamo di prendere qualcosa Ma porca vacca, mo ti devo, ah ma che cacchio sto facendo? Perché non mi fa salire? Ho sbagliato tutto, siamo partiti Una madonna siamo partiti Ma che cacchio, perché non mi fa salire? Ma è un bug Non mi fa salire Non lo so Faccio cacare a questo gioco Cioè è tanto tempo che non ci giocare Perché scivoli porca vacca Ci hanno iniziato ad ammazzare Io devo correre e trovare un posto dove Trovare della roba Perché oppure io muoio Dai correte porca vacca Asso sul ghiaccio Perciò non va bene 13 giocatori rimanenti Io scappo perché sennò faccio una brutta fine Ma veramente brutta faccio Andiamo avanti Vediamo che troviamo un fiorellino rosso 12 player rimanenti Cerchiamo di sopravvivere il più spossibile Ovviamente Andiamo avanti Cacchio non ci sta una cesta Ora come cacchio faccio? Il death match inizia tra 7 minuti E mi sta imbrogliando con le valore Con le palole Ma oggi non so parlare Non so perché Va bene 10 survivors Che cacchio stavo dicendo 10 sopravvissuti rimanenti Intanto ho visto Vedo qualcosa di bellissimo C'è una casa Spero dentro ci sia qualcosa Oppure sarebbe È un rischio inutile correre qui dentro Infatti è una merda Cioè Fa cagare Cioè è bella la casa Però non ci sto un cacchio Mi è rovinato la vita Con questa brutta notizia E non riesco manca a correre Ah dimenticavo ho messo questi tasti così piccoli Voi vi starete domandando perché Ho questi tasti così piccoli Ma il La verità è che Li ho messi per garantire una miglior visuale di gioco per voi Cioè non l'ho fatto per Perché Mi piace il gioco Il gioco più difficile Che è una madonna Cliccare questi cosi Però ci si fa l'abitudine Vabbè andiamo avanti Vediamo queste case ancora vuote Che non servono a una minchia Queste qua sono tombe Attraversiamo questo ponte Che è bella però la costruzione E vediamo che Continuano inercersi una minchia qui Andiamo avanti Ah se sentite Se sentite delle urla Sono Eh vai finalmente Porca vacca Stavo dicendo Se sentite queste urla Sono dei bambini Pestiferi Che urlano Appunto E io intanto trovo questa cosa Finalmente una casa decente Vediamo un po' se troviamo qualcos'altro Intanto qui su queste nostre ferrovie Che non servono proprio a niente E sono Ci mancano 5 minuti alla fine Io intanto cerco qualche arma Sto stando lontano dalla gente Perché voglio Cercare di Evitare di morire Cioè voglio morire Più tardi possibile Ora ne siamo Non mi ricordo Non ho intenzione di controllare Perché non ho intenzione di perdere tempo Intanto però Allora A me mi serve il legno di quercia Se lo potremmo staccare da qualche parte Lo usiamo Lo usiamo per costruirci qualcosa Perché su questo server Dovete sapere Che pratica Ma intanto c'è una cesta lì sopra Sì ho visto bene C'è una cesta lì sopra Cacchio la piglio la cesta lì sopra Spiegatemi Ecco vedo qualcuno Porca caccia la miseria Devo dire se lì dentro c'è qualcosa Rischio di morire Però dettagli raga Dettagli Si rischio di morire Se vado lì sopra Porca vacca Ma chi cacchio è che ci arriva lì sopra A prenderlo Ecco qua Cerchiamo di andare via No no Avevo visto qualcuno Dobbiamo cercare di non morire Ed ecco la cesta Porca vacca Un diamante Una spada Del cibo Benissimo Shiftiamoci Perché non voglio Voglio bordello Abbiamo trovato anche il diamante Abbiamo una spada Abbiamo tutto Possiamo andare alla riscossa JPMTV Jeff the Killer Alla risposta Alla risposta Perché oggi non riesco a parlare Mi domando Oggi sono Oggi sono dislessico E disgrafico Sono due giocatori rimasti E io sono uno dei due Ed andando ho trovato un'armatura Tre minuti rimanenti Devo trovare questo E ammazzarlo Se no lo devo mangiare Tra l'altro Che cacchio fa Perché si cambia Spiegami Perché ti cambi Mangiamo questa schifezza Vabbè Non mi vuole far mangiare Sono dettagli Ci sono delle ceste Devo correre subito lì Devo cercare di non farmi ammazzare Tra l'altro E Perché non si corre Perché non corri Porca miseria Dai che ci sono delle ceste Ma guarda Da dove siamo partiti Cioè io ho fatto il giro in tondo In tutto questo tempo Vediamo se c'è qualcosa In me ho trovato un diamante Non so che farmene Questa puntata di Minecraft E' davvero bella C'è Non sono mai riuscito a vincere Lo che registro Vinco di solito E' tutti Eccolo Porca vacca Porca vacca E' qui Lo scontro finale Lo scontro finale Lo scontro finale Mi sta ammazzando Porca miseria Mi sta ammazzando Mi ha ammazzato Questo pezzo di merda Io Io Ma io Jeff Jeff Del GPMTV Uno ne ho incontrato E uno mi ha ammazzato Si parte Con la nuova Survival Il nuovo Survival Games Da un po' Che cacchio Riusciamo a far recuperare Recuperiamo questo 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 Benissimo Lascia Che cacchio Due palle Così ci vogliono Per fare questo gioco Cioè io Mi sono ritrovato Una spada E altra roba Come Cioè io non avevo niente Ma voglio vedere Questo Che si vede il nome Deficiente Ora gli arrivo dietro E faccio il culo quadrato Serio non l'ho colpito? Sono proprio Un incapazio Scorriamo Facciamola Come? Eh? Volevi? Mi ha dato due colpi Anzi Per la precisione Me ne ha dati quattro Se vogliamo essere precisi Come cacchio ha fatto? Cinque secondi Quattro Tre Due Uno E si parte Perché non mi fa correre? Sono troppo forte Prendiamo i diamanti Si ho preso un diamante Serio Perché non me li fa prendere? Perché non me li fa prendere? Brutto bastardo Ecco ho preso degli stivaletti Mi sa Ecco qui Ecco qui Ecco qui Prendiamo anche delle carole E c'è uno che si mette davanti Non mi fa passare Perché Mi deve rompere I maroni E intanto Vedo che già qualcuno è morto Prendiamo Perché non mi fa muore? Ci hanno preso anche la roba Benissimo Ora scappiamo Ora scappiamo il più lontano possibile Non ci dobbiamo più far vedere Per tutta la fine della gara Dovrò fare così Dobbiamo scappare Ci dobbiamo armare Già mi trovo uno di fronte Uno già me lo trovo di fronte Porca vacca Porca miseria Sozza Per qua Secondo me lo tengo ancora dietro Non so è un presentimento Però andiamo avanti 9 player di rimanenti Già da 15 A 9 Già 7 minuti rimanenti Ma secondo me A questo lo tengo dietro Non so Mi Il mio cervello mi dice così Fai vedere Non lo tengo più dietro Devo scavare un buco per terra Oppure nella roccia Vediamo Mi metto qui Ecco al buio E mi armo Con quello che Mi armo Non so se si può dire così Poi ci mettiamo qui Ma vai a cagare Disconnesso dal server Tanti momenti Per disconnettermi Ora Porca miseria Si è arrestato nuovamente Minecraft Cioè Non Non se ne è disconnesso dal server Si è arrestato proprio il gioco Quindi Il gioco decide Che io non devo più giocare Benissimo Va bene Così E Vabbè Penso che per oggi sia tutto Se il video vi è piaciuto Diteci Se Dopo Parte dei video che facciamo Dovrebbero essere di Minecraft Clash Royale Che vanno per la meglio Su Youtube Quindi Diteci Se Minecraft Lo dovremmo Proporre più spesso E Vabbè Per oggi è tutto Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Se non siete iscritti Iscrivetevi Fateci pubblicità E ci rivediamo nel prossimo video Al prossimo episodio